Oh ma a che ore sono? Le otto. Chi? A che ore inizia lo spettacolo? Alle nove. Ma cosa stiamo qua a fare? Un'ora prima. Terra! Sempre ai soliti. Fermi, fermi. Ma chi è che va in scena? L'Ulacidi. 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 Ma che spettacolo è? Piccolo. 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 Piccolo che c'è? Andiamo a Mesero. Siamo qui eh? Andiamo a prepararci. Grazie ragazzi. Siamo pazzi. Se no non ne rivolgiamo pazzi. Ah non devo far vedere la... No non devo girarmi di là perché non vogliono che... Allora vi aspettiamo qua con Ilacidi. Ragazzi non posso inquadrare il parco perché mi hanno detto di non farlo. Dovete venire qua a vederlo. Quanto è l'euro? No.